Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Un cordele saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Purtroppo è salito il numero dei decessi nelle Marche. Il bilancio oggi parla di 19 morti nelle ultime 24 ore, tra questi anche tre fanesi, di cui uno senza patologie pregresse. Facciamo il punto della situazione nel servizio di Francesco Salvaglio. 19 i decessi odierni per Covid, 19 nelle Marche. Si registrano 10 donne e 9 uomini morti, tutti con precedenti patologie pregresse, tranne un 73enne di Fano e un 85enne di Macerata. Il totale dei decessi arriva a 746 dall'inizio della pandemia. In provincia di Pesero Urbino si contano 417 vittime, 7 invece extra regione. Crescono i guariti da 1558 a 1603 e calano i ricoverati da 1067 a 1043. Per coronavirus nelle Marche. Nelle ultime 24 ore le persone assistite in terapia intensiva sono passate da 108 a 106 e in reparti non intensivi da 495 a 471. In leggero rialzo i ricoverati in semi-intensiva da 241 a 244, mentre è stabile il numero delle persone in area post-critica da 223 a 222. Sono i dati dell'ultimo aggiornamento del Gores, il gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie. Tra i positivi 5.426 su 21.949 tamponi, 2.052 sono in isolamento domiciliare. 2.013, il giorno precedente, tra le persone venute a contatto con positivi, 7.753 sono isolate in casa, 3.363 con sintomi, tra cui 1.158 operatori sanitari. Finora nelle Marche sono state contagiate 22.873 persone. La mappa dei positivi per provincia dà conto di 2.195 a Peserurbino, 1.629 ad Ancona, 837 a Macerata, 363 a Fermo, 254 ad Ascoli Piceno, altri 148 provengono da fuori regione. E' morto all'età di 47 anni a causa del coronavirus Mirko Bertuccioli, titolare del negozio plastic di Via Passeri e noto membro della band pesarese Camillas, con la quale aveva partecipato ad un programma Italian's Got Talent. Cordoglio è stato espresso dal sindaco Matteo Ricci e dal vice sindaco Daniele Vimini. La sua scomparsa ci ha dolore e ci sconvolge, hanno dichiarato. Da più di vent'anni protagonista della scena musicale pesarese, animatore di festival e musicista, con i Camillas ha portato il nome di Pesero in tutta Italia e non solo. Ci stringiamo nel dolore alla famiglia, ha concluso Ricci e Vimini, a Ruben, a Michael, a Theodore e a tanti amici che hanno voluto e hanno avuto la fortuna di conoscerlo. E adesso la cronaca. I carabinieri di San Costanzo hanno arrestato un 47enne fanese che è stato trovato in possesso di un documento falso per l'espatrio. L'uomo è stato fermato nel pomeriggio di Pasquetta durante i controlli anti-coronavirus. Da ulteriori approfondimenti è emerso che sia la patente che la carta d'identità erano falsi. Tra l'altro quest'uomo aveva la patente sospesa per pregresse e violazioni già nel 2017. È stato processato per direttissima e condannato a un anno e quattro mesi di reclusione. E continuiamo a parlare di controlli, di spiegamento di forze dell'ordine per presidiare la città, i luoghi di villeggiatura. In questo fine settimana, in questo Ponte Pasquale, sono state oltre 4.000 le persone controllate in provincia di Pesaro e Urbino. Doveva essere un fine settimana da urlo per residenti e attività commerciali pronte ad accogliere migliaia di turisti e gente che avrebbe utilizzato questo Ponte Pasquale per spostarsi con migliaia e migliaia di persone in viaggio lungo le autostrade, direttrici nazionali e con le località turistiche che erano stracolme di persone. E noi, cronisti, oggi avremmo riempito le pagine di giornali e di TG con resoconti e immagini di gente che si godeva i primi sprazzi della bella stagione con il divertimentificio che aveva i motori a pieno regime. E invece siamo qui tristemente a parlare di controlli, multe, schieramenti di polizia con strade, spiagge deserte ed elicotteri che sorvolano arenili e boschi non alla ricerca di pericolosi latitanti ma di normali cittadini evasi dalle proprie abitazioni dove sono costretti ormai da quasi un mese per colpa del Covid-19. 70 pattuglie e oltre mille uomini tra forze dell'ordine, polizia ed esercito a presidiare strade e varchi cittadini. 4.098 sono complessivamente le persone controllate nelle giornate di sabato, domenica e lunedì per l'osservanza delle misure di contenimento per la prevenzione e il contrasto dell'epidemia da Covid-19. Fa sapere la prefettura di Pesaro e Urbino 1.619 sono quelli effettuati nella giornata di sabato con 50 persone sanzionate 1.221 nella giornata di Pasqua con 102 sanzioni e due denunce per altri reati e 1.258 nella giornata di Pasquetta con 80 violazioni accertate ed una persona denunciata però per altri reati. Nei tre giorni sono state inoltre controllate 970 attività commerciali 472 nella giornata di sabato 251 in quelle di Pasqua e un'attività sanzionata e ben 247 in quella di lunedì dell'Angelo. Questi i freddi numeri di questa mega operazione anti-esodo tutto sommato però tranne alcuni sporadici episodi come a Cattabrighe dove i risiedenti di una via chiusa si sono riversati in strada o coppie di anziani in giro con le scuse più fantasiose o la podista affanese che non ha resistito a correre sulla spiaggia il giudizio del prefetto di Pesaro Urbino è tutto sommato positivo. I cittadini della provincia hanno dimostrato grande senso di responsabilità come testimoniato dal numero contenuto di violazioni contestate grande apprezzamento sottolinea il prefetto va rivolto alla lavoro delle donne, degli uomini, delle forze, dei polizia dei militari, delle forze armate e delle polizie locali che hanno assicurato un efficace controllo del territorio aiutati in ciò anche dalla collaborazione dei cittadini. Importante in questo senso conclude il prefetto sono stati i continui appelli dei sindaci della provincia e dei rappresentanti delle istituzioni e degli stessi mass media a restare a casa. Sono oltre 24.000 le telefonate arrivate al numero verde della regione Marche per informazioni sull'emergenza Covid-19 con una media di 579 chiamate al giorno i dati sono contenuti nei due report riferiti a marzo ed aprile nell'ultima settimana monitorata le chiamate ricevute oltre 2.500 risultano in netto calo sulle precedenti un andamento che rispecchia l'evoluzione della pandemia in corso l'attività principale degli operatori del numero verde è quella di compilare le schede da inviare ai servizi di igiene e sanità pubblica per la presa in carico dei casi segnalati. La regione dà conto in un aumento delle richieste di chiarimenti sulle ordinanze regionali e nazionali mentre sono diminuite le domande sugli spostamenti dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle di Fano proprio sul fronte degli incentivi alla ripartenza del dopovirus hanno presentato tre mozioni urgenti per il prossimo Consiglio Comunale. Abbiamo parlato in questo periodo con tante persone che hanno attività nel nostro territorio e sono sinceramente molto preoccupate. Noi abbiamo visto che comunque la nostra amministrazione per il momento ha sospeso il pagamento dei tributi fino a fine maggio e poi si è fatto portavoce presso il governo di alcune richieste. Noi pensiamo che sinceramente tutti dovremmo fare qualcosa e il nostro Comune dovrebbe fare di più di quello che sta facendo e quindi venendo incontro al Sindaco Seri che ha detto collaboriamo abbiamo scritto queste tre mozioni le abbiamo fatte distinte per votarle in modo distinte sperando che almeno qualcosa riesca a passare nella fattispecie sono la richiesta della riduzione della Tari perché le attività chiuse naturalmente adesso non stanno producendo rifiuti e quindi ci sembrerebbe veramente ingiusto che dovessero pagarla e quindi chiediamo al Sindaco di farsi promotore di questa richiesta presso Aset che deve redigere il piano economico finanziario insomma adesso la scadenza è giugno 2020 non so se verrà prorogata però ci sono i margini per poterla portare avanti questa richiesta speriamo che Seri sia d'accordo la seconda proposta è sempre sulla stessa linea di questa insomma segue la stessa logica cioè riguarda la TOSAP che è la tassa per l'occupazione del suolo pubblico molte attività sono rimaste chiuse in questo periodo quindi perché dovrebbero pagare l'occupazione del suolo pubblico se in effetti non l'hanno occupato quindi chiediamo che vengano rifatti i conteggi e che ciascuna attività paghi per il periodo in cui è stata aperta e non per quando è stata chiusa tra l'altro un'altra proposta che stiamo avanzando è quella di avere la possibilità quando riapriranno di utilizzare più suolo pubblico senza dover pagare ulteriormente altre risorse perché dovranno farlo per rispettare insomma le direttive nazionali che vorranno appunto una distanza di sicurezza tra un tavolo e l'altro questo riguarda bar riguarda ristoranti e il comune potrebbe prevedere almeno per quest'estate nelle zone dove non è ancora prevista la pedonalizzazione di rifarla proprio per rendere possibile a più attività il fatto di poter usufruire degli spazi all'aperto per insomma ospitare i clienti ecco e quindi pensiamo per esempio alla zona mare sarebbe bellissimo lungomare senza il passaggio continuo di automobili e poi la terza proposta segue anche questa delle indicazioni che ha dato Seri la sua amministrazione hanno chiesto al governo di detassare gli italiani che fanno vacanze in Italia quindi seguendo proprio questo filone di pensiero ci è venuto da proporre che Fanno faccia qualcosa e quindi per invitare gli italiani a venire in vacanza a Fanno si potrebbe pensare di togliere la tassa di soggiorno almeno per questa stagione stagione estiva e quindi speriamo sinceramente che ci sia un bel dialogo che non ci sia assolutamente chiusura ma apertura con il sindaco e con gli assessori in modo che insieme si possa fare qualcosa di utile per la nostra città ecco che ne ha tanto bisogno in questo momento sì beh questo sicuramente avete contezza più o meno di quando ci sarà un consiglio comunale quando si potranno discutere queste vostre proposte noi le abbiamo proposte naturalmente come emozioni urgenti io ho già contattato la presidente del consiglio Carlo Cerchettelli per farle presente insomma che sarebbe indispensabile discuterle presto e mi ha detto che valuterà insieme all'ufficio di presidenza domani per esempio una buona parte dei consiglieri comunali e amministratori avranno un corso di formazione perché si ha intenzione di fare presto un consiglio comunale online quindi ci sarà questo momento di studio proprio nella giornata di domani domani e dopo domani quindi speriamo che sia breve ecco i carabinieri della stazione di Pergola di Fano hanno arrestato per rapino a mano armata e porto abusivo di arma due cugini del posto di 36 e 43 anni due giovani a bordo di una lancia Ypsilon vecchio modello di colore grigio condotta dal più giovane hanno raggiunto nel tardo pomeriggio di sabato il supermercato Coal di Pergola in via Martiri della Libertà in prossimità dell'orario di chiusura i malviventi hanno intimato la cassiera di aprire le due casse e afferrato tutto quello che c'era all'interno circa 1100 euro di soldi incontanti al sopraggiungere di un altro commesso è subito intervenuta la richiesta del rapinatore indirizzata a tutti i presenti di sdraiarsi a terra prima che lo stesso uscisse repentinamente dall'esercizio e per allontanarsi a bordo dell'auto condotta da un complice sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti che dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e attraverso alcune ricerche sono riusciti ad identificare i rapinatori dopo un servizio di osservazione nelle rispettive abitazioni sono scattate le perquisizioni sequestrata la somma di 700 euro e la pistola di tipo Beretta i due cugini sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Villa Fasticcio il comune di Mondolfo ha iniziato la distribuzione delle mascherine chirurgiche alla popolazione saranno in tutto 18.000 dispositivi anticontagio in tutto il territorio comunale è partita la consegna nel comune di Mondolfo di 18.000 mascherine chirurgiche certificate per tutti i cittadini operazione di prevenzione dedicata alle famiglie per fronteggiare l'emergenza coronavirus decisa dall'amministrazione per evitare i contagi fornendo un dispositivo fondamentale la distribuzione iniziata da ieri dove il sindaco e maggioranza hanno dato il via al porta a porta donando i primi dispositivi siamo partiti dai quartieri di Molino Vecchio e Sterpettine già da Pasquetta gli amministratori comunali assieme ai volontari ad alcuni volontari della protezione civile della Croce Rossa siamo partiti già da ieri con Molino Vecchio e Sterpettine e poi oggi abbiamo iniziato le consegne anche in altri quartieri ci sono tanti volontari della Croce Rossa e tanti volontari della protezione civile che ringrazio davvero per la loro disponibilità pensiamo di chiuderle nel giro di pochi giorni su tutto il territorio e su tutta la città sono stati fatti i quartieri di Cento Croci e i quartieri di Piano Marina oggi pomeriggio dovremmo andare su Marotta Nord e anche su alcuni punti di Mondolfo Centro e poi continueremo nella parte di Marotta Centro nei prossimi giorni ma nello specifico quante mascherine state consegnando a famiglia? Allora le mascherine in totale sono 18 mila e ne consegniamo tre per ogni famiglia quindi indipendentemente dal numero di famiglia abbiamo fatto il numero medio dei nuclei familiari del comune di Mondolfo e quindi ne diamo tre per ogni famiglia rappresenta un piccolo supporto un piccolo sostegno però è doveroso soprattutto in questo periodo in cui si fanno difficoltà a trovarle e chi riesce a trovarle le trova a costi elevati sono oltre 350 le famiglie di Mondolfo Marotta a cui l'amministrazione ha consegnato i buoni spesa entro Pasqua per un importo totale di circa 95 mila euro risorse destinate dal governo al comune l'amministrazione come aveva annunciato nei giorni scorsi ha quindi tenuto fede all'impegno di distribuirle a tutte le famiglie del territorio che ne avevano fatto richiesta prima delle festività il comune ha deciso poi di proseguire l'azione di sostegno puntando sulla solidarietà adesso abbiamo aperto un conto corrente delle richieste sono arrivate da parte delle famiglie abbiamo aperto un conto corrente perché ci sono alcune imprese che vogliono appunto donare in questo fondo per ampliare questo fondo di solidarietà alimentare e quindi aspettiamo insomma le donazioni per poi andare a supportare a supportare altre famiglie che ne hanno fatto richiesta e che rispettano i requisiti naturalmente dell'ordinanza della presidenza del consiglio dei ministri e adesso andiamo a Pesero la giunta del sindaco Matteo Ricci ha deciso una proroga parziale sei ore al giorno per l'accensione dei termosifoni fino al 28 aprile tre ore al mattino tre ore la sera i motivi dell'ordinanza secondo il primo cittadino è rivolta agli anziani bambini e tanti malati che sono all'interno delle proprie abitazioni in modo che si potranno riscaldare nelle ore più fredde l'efficacia dell'ordinanza sottolinea il sindaco verrà interrotta appena le temperature torneranno a salire e anche il sindaco di Fano ha disposto che dalla mezzanotte del 16 aprile fino alle 24 del prossimo 3 maggio gli impianti di riscaldamento potranno rimanere accesi per un massimo di 6 ore frazionabili in due o più sezioni di tempo nell'arco della giornata non sarà possibile però superare i 20 gradi centigradi a causa delle restrizioni saltano anche eventi e celebrazioni come quella che tradizionalmente si svolge a Fano il martedì dopo Pasqua al santuario della Madonna del Ponte Metauro il santuario di Santa Maria di Ponte Metauro è uno dei luoghi religiosi più cari alla città di Fano nei secoli è stato meta di molti pellegrini e pellegrinaggi nel 1399 il più noto lo fecero i riminesi guidati da Carlo Malatesta per ringraziare la Madonna del Ponte per la fine di una grande pestilenza il pontefice Giovanni Paolo II poi durante la sua visita nell'84 incoronò il quadro della Madonna del Ponte nominandola protettrice dei marinai rimasto negli anni un punto di riferimento per la comunità locale questo luogo che sorge lungo la Statale 16 in prossimità del ponte che scavalca il fiume Metauro è visitato soprattutto nel periodo di Pasqua visto che al martedì successivo è la festa del santuario oggi però a causa del Covid-19 e delle misure restrittive non solo la pineta adiacente è rimasta chiusa ma non è stato possibile organizzare neppure il tradizionale programma con le iniziative solidali e le celebrazioni delle sante messe nell'arco di tutta la giornata oggi era una grande festa qui al ponte Metauro c'era il pontificale con il vesco la pesca di beneficenza e veniva tanta gente non solo dalla città ma anche dalle città vicine purtroppo a causa del coronavirus oggi le cose sono andate così quindi ci limiteremo noi a fare una messa registrata la celebrazione viene fatta in tonno minore questa Madonna che è stata venerata dal 1200 e questo santuario mariano è uno dei più antichi d'Italia anche adesso hanno scritto da Roma perché vogliono notizie su questo santuario della Madonna e invito tutti i nostri parrocchiani a tenere duro in questo momento così difficile ne abbiamo passate tante passata la spagnola ne abbiamo passate in colera ecco io penso che la Madonna del ponte non ci saprà proteggere il sindaco di Fano Massimo Seri ha emesso un'ordinanza con la quale ha prorogato fino al prossimo 3 maggio il divieto di accesso al pubblico in tutti i cimiteri comunali tranne che per le esigenze di tumulazioni e cremazioni il sindaco inoltre ha prorogato anche la possibilità per le imprese florovivaistiche di accedere ai cimiteri comunali per sistemare le tombe e depositare i fiori su richiesta delle famiglie e da oggi per tutti gli amanti della letteratura si potrà tornare in libreria ad acquistare i libri non tutti però hanno deciso di alzare la saracinesca ad Ancona c'è invece chi ha addirittura scritto al premier Conte spiegando il perché ha deciso di rimanere chiuso con gradualità ma ripartire aveva annunciato pochi giorni fa il premier Giuseppe Conte e oggi tra coloro che possono alzare la saracinesca ci sono anche le cartolibrerie i negozi di vestiti per bambini e neonati e le librerie seguendo le direttive del governo oggi stamattina alle 9 abbiamo aperto terremo aperto però ecco in questo periodo solo la mattina in modo tale ecco di non tutta la giornata ma solo solo mezza giornata per ripartire poi vedremo ecco come si svilupperà le prossime settimane anche ecco cosa ci arriva dalle varie dai vari decreti del governo se la regione ci chiede qualcos'altro ecco noi siamo comunque ecco stamattina abbiamo deciso di riaprire il domicilio sì 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 continuiamo continuiamo a farlo ormai è da due settimane che dopo le direttive del governo del 31 marzo che ci davano la possibilità di fare le consegne a domicilio abbiamo abbiamo ripreso regolarmente ecco fermo restando che la fase 2 in attesa del via libera del comitato tecnico scientifico dovrebbe decollare dal prossimo 4 maggio quella che si apre oggi come hanno detto gli esperti è una sorta di periodo di transizione che dovrà essere accompagnato dal rispetto di una serie di regole e misure igieniche il distanziamento l'uso di guanti e mascherine gel igienizzanti ma anche l'accesso scaglionato dei clienti in base all'ampiezza dei locali sono le principali norme imposte a chi intende riprendere l'attività bisogna dare una spinta un'idea di voler ricominciare e con le norme applicate con tutte le sicurezze ma i primi passi bisogna farli faremo entrare una persona alla volta siamo in attesa dei guanti da dare a disposizione dei clienti ovviamente del sapone disinfettante e poi ricominciamo l'attività a domicilio? continuerà anche quella l'abbiamo fatta la scorsa settimana ci siamo trovati bene i clienti ne sono contenti e quella continuerà oggi però si sistema e domani si riapre? sì esatto oggi pulizie riordine della libreria ricominciamo anche noi a respirare l'aria della libreria per essere operativi domani come annunciato non tutte le regioni hanno ricepito i contenuti dell'ultimo decreto in primis Lombardia e Piemonte dove non sarà consentita la riapertura di librerie e cartolerie se ne riparlerà il 3 maggio la vendita di questi prodotti continuerà soltanto negli esercizi commerciali autorizzati altre regioni poi hanno stretto ulteriormente le norme previste altre le hanno parzialmente allentate o ancora hanno introdotto finestre orarie per gli acquisti nelle marche invece c'è chi nonostante al momento non ci siano divieti ha deciso di andare controcorrente e non riaprire l'attività almeno per ora così come ha fatto la titolare di una libreria di Ancona che addirittura ha deciso di scrivere al presidente del consiglio perché non è che non vogliamo lavorare siamo molto contenti di lavorare e noi abbiamo bisogno dei nostri clienti e abbiamo voglia di dare libri e siamo contenti di essere un presidio culturale non c'era mai stato detto da un'istituzione però però dobbiamo farlo in sicurezza quindi io oggi non ho aperto perché sto mettendo a posto cioè devo mettere in campo tutte le formule utili perché noi non abbiamo problemi sanitari noi i nostri clienti i nostri familiari avevamo introdotto la consiglia a domicilio per questo per tenere le persone a casa il più possibile e quindi abbiamo scritto a Conte per dire vogliamo essere sicuri di quello che facciamo non vogliamo aiuti vogliamo il come in questo periodo difficile ci ha raccontato Simona la forza per andare avanti ce l'hanno data i clienti in particolare un ragazzo di Fano che ha voluto darci una mano con un buono che avrebbe poi utilizzato quando la libreria avrebbe riaperto al pubblico non posso pensare di aver esaurito il mio dovere sociale stando a casa le ha detto il giovane devo anche guardare chi questo problema lo sta affrontando in maniera diversa e per me è stato mi ha riacceso mi ha rimesso la voglia verso il mio lavoro che stavo perdendo perché comunque pensavo che era difficile è difficile ritornare e questa cosa mi ha veramente aperto il cuore quindi lo ringrazierò per sempre avete gel mascherine è questo che vi manca? noi per i nostri io ce l'ho l'ho tolta io ce l'ho ho i guanti e lavoro con spruzzini e pulizie per il mio lavoro e lo stavo facendo da giorni devo prendere il gel significante per i miei clienti perché se entrano anche se avessero guanti potrebbero aver toccato qualcosa se toccano un libro lo contaminano cioè è diverso in questo momento la riflessione che si fa nel commercio aprire perché non ce la faccio più a stare chiuso come ho sentito dire da tanti miei amici commercianti è giusto è sacrosanto ma dobbiamo riflettere che soprattutto in una fase in cui dobbiamo stare a casa aprire non è così semplice aprirete soltanto al momento giusto quando saremo in garanzia se è domani due giorni non lo so cerchiamo di avere rispetto perché è un momento delicato ci sono persone che stanno molto male e forse fra due settimane pensare che dobbiamo richiudere tutto perché abbiamo avuto corsa fretta di dare segnali a me fa paura mi fa paura di più anche perché dovremmo convivere tanto con questo virus probabilmente quindi dovremmo imparare a viverci e noi vogliamo avere il tempo per capire e proseguono le iniziative di solidarietà per fronteggiare l'emergenza sanitaria il club anziani anni nuovi di Sant'Orso di Fano ha devoluto 150 euro alla protezione civile di Fano al CB Club Mattei che dall'inizio dell'epidemia è in prima linea con i suoi volontari per aiutare la popolazione fanese e questa sera facciamo gli auguri a Rosa Gostoli Rosina a Osina per tanti che oggi compie cento anni classe 1920 Rosa è nata a Belforte a Lisauro ha vissuto una bella vita ma difficile come lo fu per tanti di quella generazione che hanno superato le due guerre mondiali dal 1956 insieme a suo marito Nicola hanno sempre vissuto a Macerata Feltria purtroppo il coniuge l'ha lasciata nel 1999 dopo aver festeggiato i 50 anni di matrimonio sempre lucida e reattiva Rosina oggi ha una grande preoccupazione per il virus che la tiene lontana dai suoi affetti in particolare i nipoti nell'attesa che passi questo periodo difficile i familiari e ovviamente anche noi di Fano TV le auguriamo altri cento di questi giorni e dopo il telegiornale invece trasmetteremo una poesia dal titolo Sala Corona in Tla Testa ovvero con la corona nella testa scritta in dialetto fanese dal nostro Davide Cecchini collaboratore di Fano TV che è stata recitata poi dai componenti della compagnia teatrale Il Guitto e con questo noi ci fermiamo qui vi saluto vi ringrazio e vi do appuntamento a domani mattina alle 7.45 con la Rassegna Stampa Ok Giornale Arrivederci an a Grazie a tutti.